Ciao a tutti, in questo video andiamo a capire quando uscirà Poppy Playtime capitolo 4 Il capitolo 4 di Poppy Playtime potrebbe uscire, ragazzi, entro quest'anno con rivelazioni sulla trava, ma se seguite tutto questo video vi spiegherò tutto passo passo e andremo più nel dettaglio con nuovi personaggi e location Per chi fosse interessato ho aperto anche un canale di Yauto, vi lascio il link qui sotto in descrizione Grazie se vi iscrivete Confermati il ritorno di Poppy e Kissy, ma c'è un misterioso attacco a Kissy Missy Si ipotizzano nuovi mostri, inclusi personaggi scartati in precedenza La location potrebbe essere la stanza dell'innovazione Firatevi che se seguite tutto il video andiamo a capire tutto I laboratori o persino un parco divertimenti di Poppy Playtime & Co Infatti, secondo me, questa opzione del parco divertimenti è forse quella più plausibile perché ancora non l'abbiamo visto in nessuno dei capitoli La trama routerà attorno al prototipo con l'obiettivo di ucciderlo Si prevede un tono più oscuro rispetto al capitolo 3 e molto più cubo Il rilascio del capitolo 4 potrebbe essere entro la fine del 2024 o all'inizio del 2025 Con sviluppi attivi confermati dai creator Quindi troveremo assolutamente delle novità riguardante questo capitolo nel corso di quest'anno Chi potrebbe essere uno dei personaggi che faranno ritorno nel capitolo 4 di Poppy Playtime? Poppy e la sua compagna Kissi infatti sono confermati a fare il ritorno nel capitolo 4 Mentre Kissi Missi è stato attaccato alla fine del capitolo 3 Apprendo la possibilità di un nuovo personaggio misterioso o di un potenziale mostro nel capitolo 4 Questa parte di clip la sto facendo dopo un po' perché sono riuscito a trappelare altre notizie Se guardi le dinamiche delle date di uscita delle parti di Poppy Playtime C'è stato un intervallo di due anni tra l'uscita di Poppy Playtime capitolo 1 e Poppy Playtime capitolo 2 Tuttavia il terzo capitolo di Poppy Playtime è uscito 8 mesi dopo l'uscita del secondo capitolo di Poppy Playtime Così prevediamo che la data di uscita ufficiale di Poppy Playtime capitolo 4 Quindi quella che deve ancora uscire Cadrà tra dicembre 2024 e febbraio 2025 Tuttavia però non c'è ancora parola ufficiale sulla data di uscita del nuovo capitolo Potrebbe esserci un ritardo se i creatori decidono di pubblicare gli altri loro progetti Incrociamo le dita e speriamo in una pronta liberazione del capitolo Perché come sappiamo gli altri progetti che hanno in serbo la Playtime encore Sono meno soddisfacenti rispetto al capitolo principale Ovvero tutti questi qui che stiamo guardando Speriamo che arrivi il prima possibile Vi aggiornerò man mano in questo canale se c'è qualcosa di strano O comunque se ci sono delle novità Però ho bisogno del vostro aiuto Ho bisogno che voi lasciate un bel like sotto questo video se l'avete trovato interessante E fatemi sapere nei commenti se volete altri video riguardanti Poppy Playtime capitolo 4 O anche il 3 Mi raccomando Grazie per la visione Noi ci piacchiamo al prossimo video Ciao a tutti